L'argomento oggetto di questo brevissimo incontro è relativo ai distretti biologici. Quindi recentemente rafforzatisi con il regolamento comunitario sul ripristino della natura, uscito e pubblicato a fine luglio di quest'anno, che obbliga gli stati membri a azionare un piano di ripristino in tutto il territorio. Per quanto riguarda il settore agricolo, questo regolamento comunitario sul ripristino della natura tende a rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli. In questo senso il regolamento rafforza moltissimo lo strumento dei distretti biologici o biodistretti normati dalla regione toscana con la legge regionale numero 51 del 30 luglio 2019 e che è ulteriormente poi regolamentata nell'anno successivo con il regolamento di attuazione del 10 marzo 2020. Ora, in tema di distretti biologici, noi possiamo schematicamente intanto definire che cos'è un distretto biologico, la norma è molto chiara su questo, è praticamente un territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata vocazione agricola e nel quale è significativa in primis la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico. Quindi la dimensione è di un'area vasta, sicuramente, e noi possiamo a un certo punto schematicamente definire alcune fasi per arrivare alla costituzione, all'attivazione, ad attivare un distretto biologico. Prima di tutto c'è una fase preliminare di animazione che deve portare alla costituzione del distretto che viene costruito mediante un accordo tra soggetti pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale. Questo dell'integrazione è un aspetto importante nell'approccio alla strategia di distretto che nel biologico si rivolge a 360 gradi proprio sul territorio. Quindi l'accordo è il dispositivo che formalizza la costituzione di un distretto biologico. Devono essersi almeno tre imprenditori agricoli biologici, regolarmente iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica che dico l'articolo 7 della legge 28 luglio 2016-154 e un terzo dei comuni del territorio del distretto. Questa è una configurazione minima. Poi un secondo aspetto rilevante è quello della governance del distretto che già nella definizione dell'accordo deve essere specificata. Quindi la governance di un distretto è fatta dall'assemblea del distretto biologico e da un referente del distretto biologico che ha la personalità, cioè che è legale rappresentante dell'organismo. Il soggetto distretto per poter poi essere riconosciuto dalla regione toscana deve elaborare un progetto economico territoriale integrato. E qui torniamo su questo concetto dell'integrazione che già nella definizione di distretto biologico la normativa regionale richiama. Puntualizzerei poi, senza scendere nello specifico, di come questo progetto economico territoriale integrato che è lo strumento con il quale il distretto biologico definisce le strategie territoriali integrate, è strutturato, direi che è importante considerare il riconoscimento, quali sono i criteri che portano al riconoscimento del distretto biologico. in particolare, diciamo, sono sei, diciamo, ne ricordo in particolare uno che è quello della superficie agricola utilizzata, ovviamente, diciamo, biologico, che deve essere almeno il 30% della superficie agricola utilizzata dell'intera area distrettuale. Oltre, un altro elemento, diciamo, che deve essere valutato molto attentamente fin dall'inizio, è anche la capacità dell'area distrettuale di incrementare questa superficie agricola utilizzata al biologico nel tempo. Quindi bisogna avere anche una capacità di innescare un processo virtuoso che migliori la situazione rispetto al metodo di coltivazione biologico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.